Provi i filtri e li associo ai personaggi di New Doll City Check! Proviamo questo! Bean and Toast. Questo è ovvio. Giulia. Bellissimo questo make up blu. Questo qua, sì. Secondo me dovrebbe venire a Samantha. E anche questo più su rosa o viola. Anna. Ma magari va anche bene a Blair. Questo arancio, vediamo. Che bello! Questo lo metterei all'Argentina, visto che è fidanzata. Questo è un trucco molto semplice. A viola, sì. Non è una tipa che si trucca tanto. No, vabbè. Questa è una cornice perfetta per Blair e Anna. Blair si mette qui e Anna qui, o viceversa. Questo per Giulia. Questo... Per Blair, visto che lei ha anche i capelli verdi. Poi rosa. Anna. Rosso. Penso che potrebbe andare bene a Betty, visto che ora ha i capelli rossi. Questo è anche un trucco molto semplice. Potrebbe andare a viola. Questo, secondo me, è perfetto per Betty. Perché, insomma, è un po' confusa in questo momento che ha seguito sua cugina, sì. E questo con le stelline, secondo me, è perfetto per Viola. Perché lei piace tanto studiare e studia anche le stelle. E questo era l'ultimo filtro del giorno. Ci saranno altri TikTok dove ne proverò altri e li associerò anche ai personaggi. Ciao e seguitemi anche su YouTube. Ciao. Ciao. Ciao.